Senatore Bagnai, ministro degli affari europei, sogno di una lotte di mezza estate o c'è qualcosa di concreto? Lei ci spera in questa possibilità di diventare ministro? Io ho già espresso in tante sé... a me affascina questo eterno ritorno giornalistico delle stesse domande. Perché non mi chiede delle clausole di salvaguardia? O non mi chiede se voglio uscire dall'euro, da solo o in compagnia? Sono sempre le stesse domande. Insomma, ieri è trapelato dal Vertice. Salvini ha fatto il suo nome all'interno del Vertice per questo prestigioso ruolo. Le chiedo solo se lei ci crede. Due rilevi metodologici. Il primo, non voglio che lei lo prenda sul personale. Perché è frutto di un mio pessimismo radicale rispetto a quello che appare sul mondo dell'informazione. Io esorto i miei lettori, anche io ne ho in quanto saggista, a non credere... Beh, non solo sul blog, ma anche su due best seller, insomma, modestamente. A non credere tanto a quello che vedono scritto. Poi le smentite non si devono dare. Se lei, insomma, pensa di poter dare un contributo in questo ruolo così importante, oppure no? Io l'ho letto sul giornale e quindi non ci ho creduto, coerentemente con i miei principi metodologici. Meglio Fontana. Penso di poter... Secondo me sì, perché ha più esperienza delle istituzioni europee, essendo stato parte di quelle istituzioni, essendo stato un parlamentare europeo, per tutta una serie di motivi. Penso di poter dare un contributo in questa fase, lo sto dando qui in Senato, l'abbiamo visto anche oggi. Per esempio abbiamo udito il Ministro, è stata un'audizione molto importante. Si può fare molto bene anche dal Parlamento un lavoro sugli affari, diciamo, cosiddetti europei, insomma, dell'Unione Europea. Quindi sto bene... Con Salvini ha parlato di questo possibile incarico oppure no? No, no, con Salvini non ne abbiamo parlato. Non c'è nulla di... Non c'è nulla che non sia, diciamo, giornalistico. Qualora venisse chiamato, però? Praticamente esorterei quelli che vedono questo video, dopo aver visto questo video, ad andarsi a vedere la puntata, l'ultima puntata di mezz'ora in più dall'annunziata, dove ho detto esattamente le stesse cose, perché la situazione è in questo modo. Per il resto va tutto bene, ci sono tante caselle del Governo che sono rimaste vuote per vari motivi da occupare, perché il Governo deve essere nella pienezza di tutto il suo organico. Non spetta a me fare il ragionamento su cui deve andarci e neanche andarci, perché in Commissione Finanze c'è tanto lavoro da fare, abbiamo riforme importanti come quella sulla governance della Banca d'Italia, abbiamo il lavoro di gestione dei vari affari europei, cioè delle direttive, dei regolamenti che dobbiamo recepire, che ci arrivano dall'Unione Europea. È una fase in cui il lavoro parlamentare è molto interessante. Io ovviamente sono onorato che si possa pensare che io possa fare un lavoro nell'esecutivo, però sinceramente dopo appena un anno di lavoro parlamentare non credo che la mia esperienza qui sia esaurita. Se mi viene chiesto, se mi verrà chiesto, ovviamente non è che dirò... Non dirò no. Sì, ma voglio dire, quello che il sottosegretario Giorgetti dice quando gli chiedono vuoi andare nel posto X, uno, noi stiamo bene qui, stiamo lavorando, stiamo andando avanti, questo viene apprezzato dagli elettori, forse ve ne sarete accorti alle ultime elezioni europee, e quindi sinceramente non c'è un motivo di cambiare o di alterare gli equilibri di una squadra che sta funzionando.